Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi ci immergiamo nella conoscenza del pianoforte. Cantare in libertà Bene ragazzi, ci siamo. Come ben sapete, il pianoforte è un insieme di tasti bianchi e neri. Qui, precisamente ci sono 88 tasti sul pianoforte e vi spiego un attimo dove trovare le note sul piano. Ad esempio, come potete notare, ci sono sempre alternati tasti neri a gruppi di 2, a gruppi di 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3 e poi in mezzo a questi tasti c'è sempre uno spazio dove non c'è il tasto nero. Bene, dove ci sono i due tasti neri, alla sinistra, ricordiamoci che noi leggiamo da sinistra verso destra, quindi è facile, alla sinistra si trova il Do. Questo è il famoso Do centrale e ogni due tasti neri se noi facciamo tutte le note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vediamo che si ripete il Do sempre prima dei due tasti neri. E di conseguenza, quindi, abbiamo detto che ci saranno Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ci sono questo intervallo, qui si chiama ottava, poi vedremo bene tutti gli intervalli che cosa sono. E ci sono 7 ottave e un altro po'. Qui all'inizio del pianoforte c'è un solo tasto nero perché ce ne dovevano essere ancora 3, poi 2, poi 3. Però, insomma, abbiamo capito. Sappiamo, inoltre, che le note musicali sono 7, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Quindi, che cosa sono questi tasti neri? Sono tasti che si chiamano alterazioni, cioè vuol dire che accompagnano la nota Do, la nota Re, la nota Mi con dei diesis oppure dei bemolle, si chiamano così. Vediamo insieme. Andando da sinistra verso destra, troviamo che i tasti neri si chiameranno tutti diesis. Prendiamola come convenzione, una regola convenzionale. Quindi, partendo dalla prima nota, che in questo caso è un La, perché questo prima dei tasti neri è il Do, quindi Si, La, partiamo dal Do, più facile. Do, subito a destra, questo tasto nero si chiama Do diesis. Poi c'è il Re, e il tasto nero a fianco si chiama Re diesis. Tra il Mi e il Fa non c'è il diesis, perché questa distanza è già una distanza di un semitono, è una distanza piccola. Poi abbiamo Fa diesis, Sol diesis, questo è La e questo è La diesis, e anche tra il Si e il Do non c'è il diesis, perché questa distanza è ancora una volta un semitono, che, vi ricordo, è la distanza più piccola che ci può essere tra due note. Quindi, anche tra Fa, ad esempio, e Fa diesis, questa distanza sarà di un semitono. Tra La diesis e Si è ancora un semitono. Quindi ricordiamoci che tra Mi e Fa e Si e Do non c'è il diesis, perché questa distanza è già di un semitono. Vediamo, invece, come comportarsi quando si va al contrario, diciamo, dall'alto verso il basso. Prendiamo questo Do come riferimento, il Do centrale come riferimento. Quindi abbiamo detto che tra il Do e il Si non c'è il diesis, quindi non c'è neanche il bemolle, perché c'è sempre questo semitono. Le note che verranno subito prima, sulla sinistra, si chiameranno bemolle e prenderanno il nome della nota che li precede scendendo subito a destra. Quindi se questo è Si, questa nota sarà Si bemolle, La, La bemolle, il Sol darà vita al Sol bemolle qui, tra Fa e Mi, semitono, quindi Mi bemolle, Re, Re bemolle, Do. E questi sono i bemolle. Quindi ogni nota, ogni tasto nero, ha due nomi. Questo si chiamerà sia Do diesis che Re bemolle, in base ad alcuni criteri che poi vedremo. Questo si chiamerà Re diesis e Mi bemolle. Comunque vi lascio una foto con scritto tutto per bene, quindi potete dare un'occhiata là se non vi ricordate, e magari sarà tutto più chiaro. Bene, spero di esservi stato utile per la conoscenza del pianoforte, e nella prossima puntata vi spiegherò alcune scale principali, che cos'è una scala maggiore, che cos'è una scala minore. Ma lo vediamo nella prossima puntata. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso, e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà, e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.